Abbiamo giocato ieri con Faenza, è stata una bella partita, abbiamo giocato soprattutto bene l'attacco, considerando anche il fatto che loro avevano portato tutti i titolari. In difesa abbiamo giocato un po' peggio, ma comunque decentemente. Oggi invece contro un non altro abbiamo faticato un po' di più in attacco, abbiamo una difesa molto aggressiva e portando tutti i titolari è stata ancora più difficile. È stato importante giocare queste due partite, soprattutto contro i titolari perché ci siamo allenati bene in preparazione del torneo del Mediterraneo e comunque siamo un po' carenti in alcuni ruoli fisicamente, però teniamo bene l'attacco. In attacco abbiamo buona visione, si riesce a giocare bene, in tutti i ruoli si fa gol. In difesa in alcune parti si fa un po' più fatica, però tra portieri e compagni aiuti in difesa si riesce a contenere.